Il problema della manodopera nelle aziende agricole Il problema non solo è il decreto flussi. Il governo sta prendendo delle decisioni. Qual è la posizione di Coldiretti? La posizione di Coldiretti è sempre stata una posizione abbastanza attenta a questo problema. Un problema che tra l'altro nel nostro territorio è importantissimo anche perché ha bisogno di essere risolto nell'immediata perché la frutta, le orticole hanno bisogno di essere raccolte nel momento in cui sono giunte allo stato della raccolta perché se si tarda di qualche giorno poi il problema diventa ancora più annoso. Siamo fiduciosi, il 27 c'è il click day, quindi si apre il decreto flussi con un DPCM dove anche alcune situazioni sono state sotto l'aspetto burocratico e un attimino snellite quindi questo ci fa assolutamente ben sperare. Speriamo anche nella velocità dell'attuazione. Speriamo che effettivamente poi questo decreto flussi, l'apertura, il 27 sia anche propedeutico alla produzione. Speriamo di averla alla produzione. Quindi speriamo proprio di risolvere il problema o comunque di rendere una campagna diciamo abbastanza fruttuosa a differenza di quelle che purtroppo abbiamo subito negli ultimi anni. Quindi il fatto in cui effettivamente ci possa essere questa apertura ci innesca anche nella condizione di avere sensibilità in quello che potrebbe essere il futuro quindi magari avere sempre più la possibilità in maniera rapida di avere la mano d'opera anche straniera perché dobbiamo ricordare che un prodotto su quattro è manipolato da persone che non sono del nostro continente quindi voglio dire insomma una condizione più che importante perché sia il più possibile attuabile e anche diciamo il più possibile corposa. Tutto chiaramente poi è legato al fatto che appunto ci sia il prodotto da raccogliere quello è un'altra di quelle condizioni sulle quali insomma abbiamo abbastanza sensibilità e speriamo che le cose vadano per il meglio. Oggi se percorriamo la 14 vediamo che tutte le piante sono in fiore però ancora insomma siamo tra la primavera e all'inizio della primavera è tardo inverno quindi incrociamo le dita però insomma speriamo che l'annata vada bene. 5.112 denunce di infortunio e 163 denunce di malattie professionali sono quelle arrivate all'Inail di Ferrara nel 2022 di cui il 45% è gestito da Epaca la struttura di Coldiretti per i servizi alle persone. Tutti i lavoratori agricoli ma anche i lavoratori di qualsiasi settore che abbiano infortuni sul lavoro possono rivolgersi ai nostri uffici per essere seguiti e tutelati nelle pratiche nei confronti dell'istituto. L'infortunio che cos'è? L'infortunio è un danno alla salute avvenuto in occasione di lavoro per una causa violenta. Questi sono i tre elementi essenziali dell'infortunio e l'Inail indennizza all'assicurato, quindi al dipendente, al lavoratore autonomo l'indennità di temporanea quindi il periodo di assenza dal lavoro causato dall'infortunio ma anche eventuali danni permanenti derivanti da questo evento dannoso. A differenza dell'infortunio sul lavoro, la malattia professionale che è un'altra casistica di indennizzo tutelato dall'Inail si caratterizza dal danno alla salute causato da un'attività ripetuta nel tempo quindi non c'è la causa violenta ma c'è un lento e progressivo deterioramento, danneggiamento della salute causato appunto o dal lavoro o anche dall'ambiente in cui una persona lavora. Per sensibilizzare i lavoratori sul tema della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali durante l'anno vengono organizzate riunioni, dibattiti e iniziative per diffondere le buone pratiche tra i lavoratori in primo piano anche tutte le informazioni sulle consulenze medico-legali qualificate. Le principali malattie professionali che possiamo rilevare riguardano o l'apparato muscolo-scheletrico mi vengono in mente le ernie di scale piuttosto che le picondiliti, problemi alle spalle o alle mani, carpale tutto ciò deve essere comunque strettamente correlato all'attività lavorativa svolta nel tempo dalla persona però anche all'ambiente, i problemi di natura asmatica per esempio che possono derivare da sostanze chimiche inalate negli anni nell'attività lavorativa o alla pelle causate da esposizione ai raggi solari quindi ci sono molte patologie che possono rientrare nelle caratteristiche tutelate dall'INAIL anche in questo caso quando viene riconosciuto il danno alla salute causato dal lavoro l'INAIL dà indennizi economici alle persone in funzione dal danno riconosciuto Primo piano sulla pesca, sulle criticità ma anche sulle agevolazioni e sulle opportunità di questo settore importante per Coldiretti partiamo dalla legge di bilancio La legge di bilancio 2023 ha previsto ulteriori impegni da parte dello Stato per quanto riguarda sia il credito d'imposta in questo caso indichiamo che quelle che erano le schedenze previste per il credito d'imposta 2022 del terzo trimestre verranno prorogate, dovevano essere utilizzati entro il 31 di marzo ma si potrà utilizzarli addirittura fino a giugno per cui questo è un vantaggio anche per poterlo utilizzare Oltremodo si prevedono poi ulteriori interventi nell'ambito delle aziende energivore per tutto quello che riguarda i costi che le aziende dovranno sostenere In secondo luogo è stato rifinanziato il fondo legato al fermo pesca per cui a tutte quelle che sono le attività che intervengono a limitare la pesca marittima e per cui sia quelle obbligatorie che quelle non obbligatorie sia per il 2023 e poi sono previste ulteriori 30 giorni di proroga per fare le domande anche per il 2022 che scadranno il 15 di marzo ma verranno prorogate di ulteriori 30 giorni per cui questo dà un ulteriore beneficio a chi vorrà utilizzarle Terzo luogo è stato finanziato ulteriormente anche il fondo nazionale di solidarietà per la pesca e l'acquacoltura che prevede ulteriori 12 milioni di euro che sono pochi ma comunque dovranno verificare se vorranno implementati o meno legati a eventuali problematiche di carattere straordinario come poi evidenziamo ad oggi per quanto riguarda poi tutto quello che è il sistema acquifero per cui tutto quello che riguarda il problema legato agli approvvigionamenti anche e ai ricambi di acqua sul territorio in primis sappiamo che viviamo un momento di forte siccità e per cui questa condiziona anche tutte quelle che sono le attività produttive nell'acquacoltura per cui la crescita dei nostri molluschi in acqua evidenziamo effettivamente dei problemi anche legati all'accrescimento del prodotto e probabilmente sul mercato troveremo più difficoltà oggi ad avere prodotto di altissima qualità ecco la nostra paura è questa verificheremo ecco nel contesto anche quali sono poi gli andamenti di prezzo perché quello che ci interessa oggi è capire quale sarà la dinamica che si verrà a sviluppare nel prossimo futuro sappiamo che ci sono degli interventi e degli accordi che le cooperative e comunque le attività produttive tendono a fare per mantenere e comunque sostenere il prezzo riteniamo che sia una cosa importante e fondamentale perché oggi dobbiamo essere in grado di capire dove ci dovrà portare poi il mercato nei prossimi mesi sia per quanto riguarda la cozza che tra un po' si prospetteranno le attività di raccolta sia per quanto riguarda le vongole che sono comunque un mercato in continua evoluzione il nostro mercato coperto di Campania Mica e il nostro agrimercato di Grisù si preparano ad accogliere i primi prodotti che richiamano un po' la primavera a partire dal 18 di marzo quindi sabato 18 avremo questo evento dedicato proprio alle erbe spontanee e ai prodotti dell'orto e anche alla preparazione dell'orto in attesa appunto del 21 di marzo quindi dell'inizio della primavera il 18 di marzo al nostro mercato coperto a partire dalle 10.30 creeremo un piccolo angolo dedicato all'orto in verticale in cui riutilizzeremo i barattoli di alluminio classici da cui insomma deriviamo magari le passate di pomodoro o i fagioli o i ceci in barattolo e all'interno prepareremo un piccolo orto in miniatura sempre il 18 di marzo poi parleremo anche delle proprietà benefiche delle proprietà nutrizionali delle rosole queste erbe spontanee che nascono insomma proprio in questo periodo e che vengono utilizzate per poter preparare gustosissimi risotti ma anche frittate o altri prodotti poveri ma molto molto buoni sabato 25 marzo avremo invece l'appuntamento al nostro mercato coperto di Campagna Amica in via Montebello di Aile che ci introdurrà un pochino al tempo della Pasqua con le sue uova di Pasqua al cioccolato e anche con le colombe della tradizione l'acquisto delle uova delle colombe di Aile ha appunto lo scopo di sostenere gli studi scientifici e le borse di studio legate all'Associazione Italiana contro le leucemie e i linfomi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti